In un mese e mezzo la curva ha avuto un crollo verticale. Dal picco di 401 posti letto nelle terapie intensive di pazienti positivi del 31 dicembre si è passati a 91 di questa mattina. Lo vedete nella curva, vedete il punto di partenza zero va su, ormai abbiamo raggiunto quasi la fine, diciamo abbiamo raggiunto il punto zero. Ad oggi in media ogni mille persone, tre sono positive, dobbiamo però continuare ad impegnarci per venirne fuori, continua Zaia, non useremo a vita la mascherina. A preoccupare sono le varianti, stiamo irrobustendo le microbiologie per sequenziare, spiega in autonomia. Sulle varianti bisogna fare molta attenzione perché abbiamo la variante inglese che qui è già passata, rappresenta più o meno il 18% dei contagiati veneti. Ai dati di oggi sulle sequenziazioni che abbiamo fatto, poi c'è la brasiliana, la sudafricana e quindi questa è la vera preoccupazione. Sulla possibilità di un nuovo lockdown nazionale, Zaia è stato chiaro, chi lo propone deve presentare anche un dossier con dati certi perché ad oggi la nostra situazione sanitaria non è così grave da imporre nuove chiusure. Altro tema, le scuole che continueranno ad essere monitorate. Dalla prossima settimana screening a tappeto negli istituti, non solo. Noi adesso vogliamo entrare nelle scuole come abbiamo da progetto, fatto in tempi non sospetti, per fare dei plessi scolastici a tappeto in modo tale da misurare la circolazione del virus. Nelle medie ci siamo messi in testa di approfittare, di cominciare con il tutor, con l'autosomministrazione guidata. Nella terza media. E poi c'è tutta la partita dei vaccini che la regione sta valutando di acquistare, incontro su questo con Arcuri. Si è già sentito ieri sera con il dottor Flor, il dottor Flor ha richiesto i numeri dei lotti dei vaccini perché è evidente, questo penso sia corretto riconoscerlo, che qualora ci fosse confermata tutta la fornitura per 27 milioni di dosi, divise in due blocchi, 12 milioni e 15 milioni rispetto a due intermediari diversi, differenti, distinti, una regione, un paese non può girarsi dall'altra parte.